Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta di mele. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti. Gli ingredienti sono mele, uova, farina doppio zero, lievito per dolci, brandy, burro morbido e zucchero. Andiamo in via alla ricetta. Nel frattempo preriscaldiamo il forno a 180 gradi e imburriamo una tortiera del diametro da 26-28 centimetri e teniamola da parte. Sbucciamo le mele, togliamo il torsolo e i noccelli all'interno e applichiamo dei tagli paralleli. Iniziamo polverizzando lo zucchero. Mettiamo lo zucchero e andiamo a polverizzarlo per 10 secondi a velocità 10 secondi a velocità e aggiungiamo sul fondo lo zucchero. Aggiungiamo gli altri ingredienti, le uova, la farina, il burro. Il lievito e in ultimo il friendly. Amalgamiamo il composto per un minuto a velocità 6. Mettiamo un po' il composto sul fondo. e lo facciamo andare per altri 10 secondi sempre a velocità 6. il nostro composto è pronto. Andiamo a riempire la nostra tortiera. Dopo aver riempito la nostra tortiera con l'impasto andiamo a posizionare le mele. infornare per 30-40 minuti a 180 gradi. La nostra torta di mele è pronta. torta di mele. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.